Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 code a tratti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. In FIPILI code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Per lavori un chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina verso Firenze e rallentamenti tra Navacchio e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. A Firenze per i cantieri della tramvia da martedì 4 luglio i lavori arriveranno in via dei fratelli Rosselli per il collegamento tra i binari di via Guido Monaco e quelli di via Lamanni in corso di costruzione. Infine per gli aerei a causa del forte vento i voli da E per Firenze stanno subendo ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!